Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 12 aprile. Ariete, sul lavoro sarete molto abili a comunicare e riceverete anche delle notizie inattese. Godetevi la serata allegra in cui vi sentirete davvero in grande forma. Toro si prospetta una giornata molto positiva in cui finalmente ritroverete l'entusiasmo dei giorni migliori. L'amore promette sempre clamorose sorprese. Gemelli, la luna nel vostro segno vi permette di sfruttare al meglio gli ottimi transiti del periodo. Venere può rendere molto intensi tutti i rapporti sentimentali. Cancro sarà una giornata movimentata. Alcuni degli impegni che avete preso vi porteranno via più tempo del previsto e vi troverete in difficoltà. L'amore è imprevedibile. Leone, sul lavoro sarete precisi e affidabili, riuscendo ad ottenere dei risultati lusinghieri che vanno oltre le vostre aspettative. La serata va dedicata all'amore. Vergine, la fretta rischierà di farvi commettere qualche piccolo errore. Prendetevi il tempo necessario per controllare il vostro operato. In amore parlate di meno. Bilancia, sul lavoro sarete lucidi e vi muoverete con sicurezza, riuscendo a portare a termine compiti piuttosto difficili. In amore c'è feeling con il partner. Scorpione, sul lavoro vi troverete a vostro agio in mezzo alla gente, trovando sempre argomenti validi per mettere in evidenza le vostre qualità. L'amore vi sorprende. Sagittario, sotto questa luna aspettatevi delle difficoltà anche nelle cose più semplici. La fortuna non vi sarà amica. Problemi anche con le persone vicine. Capricorno, potrete contare su una giornata pacifica, in cui sarà la routine a dettare leggi. Sul lavoro attenti ai particolari. Nel tempo libero dedicatevi a voi stessi. Acquario, sul lavoro vi butterete con entusiasmo nei vostri compiti, otterrete qualche piccolo successo, molto utile per l'autostima. Un messaggio speciale in arrivo. Pesci, sul lavoro evitate di dare risposte piccate, che rivelerebbero il vostro stato d'animo. Controllate l'ansia e portate a termine un compito alla volta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.